Il consiglio di Romina Power a tutti i suoi follower di Instagram, ecco come trovare la pace interiore. La storia della protagonista si intreccia con questa pratica tanto apprezzata dalla stessa scrittrice dell'opera. Romina Power, ecco come si relaziona al resto del mondo. Ma per quanto ci si possa isolare dal resto del mondo è quasi impossibile escludersi del tutto, è impossibile farlo per più di qualche ora. Perciò quando la realtà chiama, ma Romina Power non ha voglia di rispondere, c'è qualche altra cosa che riesce a donarle la giusta serenità e forza. Nel suo ultimo post, infatti, la cantante lascia ammirare a tutti i suoi follower una location paradisiaca. La Power si trova in riva al mare, con uno spettacolare tramonto sullo sfondo dai colori violacei che si riflettono sul mare. Impossibile non restare del tutto abbagliati, il mare è leggermente ondeggiante e durante il video si scontra contro la sabbia di riva per poi ritirarsi, il risultato è totalmente immersivo. In sottofondo è possibile sentire il rumore delle acque che si muovono ampliando una sensazione di pace e tranquillità. Quando il mondo è troppo rumoroso, ascolto il mare, scrive Romina nella descrizione del suo ultimo video postato sui social. Poche parole che arrivano dritto al punto, proprio come il momento che viene immortalato dalla Power. Nonostante gli impegni musicali, in compagnia del suo grande amore Albano Carrisi, che le stanno togliendo del tempo libero, Romina non rinuncia a ritagliarsi questi attimi unici e irripetibili. I suoi amici a quattro zampe e la meditazione sono le due cose che la rilassano di più e le mettono il buon umore.